Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso del Todidimo, Natanele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. A loro uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinza ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso, orora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite e mangiate. E nessuno dei discepoli osava a domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti.